Allora, rispondo a Giulie per il video di me e mio fratello, perché non l'ha capito. Praticamente quella roba è successa davvero. Eravamo di sera sul balcone dei nostri nonni, io avevo i pattini, lui era sullo skateboard, e a un certo punto scivolo. Lui pur di salvarmi si butta dallo skateboard, mi prende e sbatte contro il tabolino. Quindi era questo quello che volevo far intendere, non è che mi ha spinto altro, tranquilli.